A Caltanissetta, nove indagati, indiziate a vario titolo di aver promosso, costituito e partecipato un'associazione per delinquere allo scopo di reperire autoveicoli acquisiti illecitamente attraverso truffe realizzate ai danni di società finanziarie, con l'utilizzo di documenti falsi provenienti dai reati di furto, appropriazione in debita, commessi in territorio campano e siciliano da rivendere a terzi, ignari dalle dinamiche illecite. Gli adebiti temporanei, pertanto, sono quelli di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, truffa, ricettazione e riciclaggio. Gli altri quattro indagati interessati al provenimento cautelare sono indiziati di aver commesso alcuni dei reati scopo dell'associazione. L'indagine ha avuto origine in alcuni controlli effettuati dalla sezione Polizia Stradale di Caltanissetta nel 2020, in quanto vi era fondato sospetto che sul territorio della provincia nissena operasse un gruppo di soggetti dedito all'acquisto di veicoli di origine illecita. Fondamentale la segnalazione da parte di alcuni cittadini vittime di truffe, in particolare gli indagati avrebbero rivenduto automobili oggetto di furti o appropriazioni in debita ai danni di società di leasing e i cui segni di riconoscimento, in alcuni casi, sono risultati manomessi così da poterne occultare la provenienza delittuosa. Tale attività illecita ha destato particolare preoccupazione, stante alla pluralità e l'elevato numero delle persone offese, individuabili tanto nei soggetti vittime dei furti e delle appropriazioni in debita, quanto negli ignari acquirenti di autovetture di origine illecita, peraltro di elevato significativo commerciale. La lunga e complessa attività di indagine della Polizia di Stato ha permesso di individuare 54 veicoli di provenienza illecita rivenduta ai ignari cittadini per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Gli ignari acquirenti hanno subito anche il sequestro delle vetture, non ottenendo il dovuto ristoro delle somme pagate, quale corrispettivo. Secondo i gravi indizi ritenuti dal giudice per le indagini preliminari, gli indagati avrebbero agito secondo schemi più o meno complessi e scogitati al fine di dissimulare l'origine illecita degli autoveicoli commercializzati, tra cui la sostituzione delle targhe a seguito della presentazione di false denunce di smarrimento, la formazione di atti notarili falsi o ancora l'utilizzo di autoveicoli con numerazione del telaio ribattuta simulando nella provenienza estera.